Se ami la buona tavola ricca di fantasia, sapori e profumi della terra del Chianti, ti invitiamo ai ristoranti Il Fondaccio e Il Fondaccio dai Dottori. Regola principale, cibi genuini, salumi chiantigiani, bruschette, fritture e torte nell'antipasto al carrello, la pasta fresca, griglia toscana, umidi toscani, bistecca fiorentina, pizza forno a legna e tutto accompagnato da un'ampia carta dei vini. Vieni e scopri il menù dei dottori, bevi e mangi finché puoi, ti aspettiamo al Fondaccio e Il Fondaccio dai Dottori a Castellina in Chianti.